Si continua a parlare di rilancio, si continua a parlare di turismo, ma è un evidente controsenso dal momento che il porto rappresenta un biglietto da visita per una città di mare. E a Torre del Greco il colpo d'occhio è desolante. Da un lato la bellezza e il panorama, dall'altro i cumuli di spazzatura e il cattivo odore. Sul molo di Ponente, invece di provvedere a pulire dopo innumerevoli segnalazioni e denunce, i rifiuti continuano ad aumentare. Sembra che in questa città tutto diventi paradossale. Non si può prescindere dal fatto che le responsabilità siano da attribuire anche agli incivili, che puntualmente sono gli artefici delle mini discariche abusive sul territorio. Ma non si può fare a meno di evidenziare ancora una volta che non c'è nessuno preposto al controllo, non ci sono telecamere di videosorveglianza, non si fa niente o troppo poco per cambiare le cose. Sui social le critiche e le lamentelle all'amministrazione comunale e alla nuova ditta si sprecano e soprattutto sono sempre le stesse. Le istituzioni non possono essere credibili se non garantiscono le cose essenziali per i cittadini, senza contare l'immagine che si dà ai potenziali turisti. Benvengano i nuovi collegamenti marittimi e le tante iniziative promosse ed organizzate in questi mesi e anche per la stagione estiva, ma i torresi chiedono a gran voce una città più pulita, perché il degrado e lo scempio fa veramente male al cuore. È una città che merita, si dovrebbe fare di più. Gli appelli alle telecamere di tv siti non mancano, come le continue richieste di intervento.